Ancora nessuna notizia di Giovanni Oricchio, il quarantenne di Ascia, scomparso nel nulla da giovedì sera. Da quattro giorni decine di uomini delle forze dell'ordine sono impegnati nelle ricerche, ma il ragazzo ancora non si trova. I parenti non si danno pace, lanciano appelli, chiedono aiuto a chiunque possa avere informazioni. Le indagini inizialmente si sono concentrate anche in mare con l'ausilio della guardia costiera, perché la bici del quarantenne giovedì sera era stata ritrovata sul lungomare della cittadina cilentana. Nelle ultime ore l'attenzione si è spostata sulle utenze telefoniche, sulle celle agganciate dal numero di telefono dell'uomo, perché registrano passaggi diversi, segno che probabilmente il ragazzo in zona o qualcuno ha preso il suo telefonino. Da quattro giorni dunque carabinieri, polizia, vigili urbani, vigili del fuoco, volontari della protezione civile, stanno cercando ovunque, tra i ruderi, nelle campagne, nei villaggi turistici, chiusi per l'inverno, ma per ora di Giovanni ancora nessuna traccia. Ieri sera i volontari della protezione civile hanno battuto palmo palmo la scogliera e la voce dell'alento, sia sulla spiaggia sia lungo la ferrovia. Questa mattina le ricerche sono riprese con un elicottero dei carabinieri che ha sorvolato tutta la zona. Inoltre si sta coordinando un intervento dei sommozzatori per ispezionare i massi che sono in mare, per proteggere la costa, quelli che sono sul tratto che va dalla Focialento a Casalvelino. Sono state visionate anche le registrazioni di alcune telecamere della stazione e si è capito che il ragazzo non ha preso il treno, almeno dalla stazione di Ascea.